Capitolo 1029 Capitolo Caruccio Diviso perfettamente in due parti Partiamo dalla prima Sanji vs Queen In tanti adesso sto sentendo dire Sanji sta scappando, ha paura, ha solita buffonata No, invece Sanji sta scappando Via, perché comunque Gli si sta riaprendo un trauma Perché lui da piccolo Ha vissuto una situazione traumatica E ha paura di diventare Come i suoi fratelli E quindi dire, sono un esperimento Riuscito di mio padre E questo lo spaventa a morte E ha ragione Immaginate un Sanji che Scappa dalla sua famiglia per tutto ciò Che ha ricevuto e subito E poi si ritrova A combattere tutta la vita con questo Fardello Lo vuole dimenticare Tanto che neanche ne parla con i suoi compagni Di ciurma E cosa succede? A un certo punto Si rende conto che sta diventando Fisicamente Come quei fratelli Che così tanto odia O odia nella loro Immagine E nel loro Diciamo Riflesso verso il padre E quindi è spaventatissimo Perché dice E se diventi una persona Senza sentimenti Sentimenti che ho costruito Nella mia vita Col bene che voglio A Zef Col bene che voglio A tutta la mia ciurma Potrei anche Dimenticarmi Tra virgolette Di loro Poi molto probabilmente Questo suo scappare via Per cercare di ragionare Tolto la parte figa Che gli sparano Lui si riprende subito E dice Oh mi fate male Cioè è figa Come scena Effettivamente Mostra un Sanji Che è diventato Fisicamente indistruttibile Poi magari La sua forza Rimane immutata Perché comunque Rimane immutata Perché lui viene colpito E' più resistente Però magari Sì i suoi colpi Saranno più forti Per un discorso fisico Però magari La sua forza Più o meno Rimaneva quella Che comunque Era un'ottima forza E abbiamo notato Ad esempio Sia contro Vergo Sia contro Doflamingo Che quando Va a colpirli Si fa parecchio male La gamba No? E quindi in questo caso Non si farebbe male La gamba O se si fa male E' irrilevante La cosa Secondo me Oda ha scelto Questa fase Per far scappare Via Sanji E probabilmente Incontrare una Tra Robin E Nami Perché loro due? Perché probabilmente Gli faranno Un discorso Del tipo Guarda che Tu Non cambierai Cambierà il tuo fisico Che è malattamente Il tuo cuore I tuoi sentimenti Verso gli altri Non cambieranno E questo qua Gli darà Una grande forza Di volontà E andrà a sconfiggere Queen Nella seconda parte Vediamo Big Mom Che stanno combattendo Ancora contro Kid e Low C'è un Kid In estrema difficoltà Perché ogni volta Sente dolore E' per colpa Della bambolina Di Hawkins E c'è Low Che dice Cosa stai combinando Mi stai soltanto Intralciando Ma comunque Vediamo un Low Molto 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 carico Che va a colpire Con uno dei suoi colpi Principali Big Mom Sembra che Gli faccia un attimo male Ma poi si riprende subito E infatti poi Gli fa un mega colpo Con Prometheus Che ha fatto Penso parecchio male Nonostante Poi si sia rialzato Però poi Vediamo Effettivamente Tutto collegato Al discorso Killer Versus Hawkins Vediamo un killer Che lì Che fa il discorso Sull'amico Che viene colpito Non reagisce Tutti gli altri Dicono Possiamo aiutatelo No Non toccatelo Non toccatelo Per poi Vedere Quello che tutti 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 Ci aspettavamo Braccio sinistro Di Hawkins Braccio Sinistro Di Kid Kid non ha Il braccio sinistro Che gli ha portato via Shanks O chi per lui E quindi Cosa fa Gli taglia il braccio E semplicemente Gli toglie la bambolina E gli sta dicendo Non ne hai più E lui fa Effettivamente Non ne ho più Allora sfoggia Hawkins La sua bambolona gigante E lui lo massacra Con grandissima facilità Questo conferma L'ottima intelligenza Di Killer L'ottima forza Di Killer E la Scassità E la Pippagine Di un personaggio Inutile Come Hawkins Però tutto ciò Fa capire come Killer e Kid Abbiamo un rapporto Molto molto stretto Ma tanto Tanto stretto E quasi fraterno Che dire Penso che ci stiamo avvicinando Sempre di più Alla fine Penso un cinque capitoli Vedremo la fine Dei vari combattimenti Poi ci sarà Il susseguirsi Perché Wano Non finisce qui Inoltre Mi sono venute in mente Alcune teorie Alcuni ragionamenti Da fare Che porterò In questi giorni Su TikTok Il video finisce qui Come al solito Commentate Confrontiamoci Ne parleremo Nelle varie live Che farò Ciao Come allo